bello aspetta tu sei quello del r125 domanda c'è una brugola ti sei spaccata da un cazzotto dobbiamo fare la reaction alla caduta di azzurro si ancora non pubblica il video da qualcosa capito si è schienato tipo a 80 all'ora ha tirato una facciata per terra no che merda che cosa oggi fanno così poi vediamo sistemarlo bene è una vita tanto non è zero vabbè vabbè FIGHT! bella bro e raga ma gli estremi estremi rimedi no ma lì era tutto bagnato io ci ho messo la felpa bucavo domenico bucavo mi sei piaciuto porgarello allo mi senti mi senti coglione parla aspetta c'è il volume al minimo ma te la faccio pure se puoi chiudere l'urgo ahahah queste strade hai tipo il sogno di ogni ragazzo di ogni 14 anni il problema che lui c'è una 17 eh posso? oh oh ragazzo vai porco zio che macello Matteo e la candela si è bruciata con l'acqua oh eccomi andate andate recupero che? dai su Matteo quando freno metti una mano sul serbatoio una mano sul serbatoio dai dai giordana porco e sta alla breccia in chiamata lui sta urlando fai il culo ciao dice che aspetta c'è nave nel casco nave nel casco aspetta è entrato? adesso abbiamo i rapporti più lunghi di un dente perchè ho comprato la trasmissione originale 1740 pensando che io avessi la 1740 invece perchè il proprietario la va accorciata a 16 porco zio quanto inchiodano queste pasticche SR che la mescola racing road in teoria migliore si offre da piano eh no inchioda regà porca troia frena troppo no troppo troppo frena troppo cazzo porca troia queste sono pasticche serie altro che le cagate Brembo commerciali sono sempre Brembo però sono quelle buone che non mi piace sia che non sia il che non sia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.